Sono stata selezionata per il betatens di Stefano e grazie a Dio mi sono iscritta a The Bitcoin Code. Uso il suo programma già da 37 giorni e ho già guadagnato 400.000 euro. Ho finito di pagare il mutuo e anche l'università di mio figlio. Poi mi sono licenziata dal lavoro che odiavo e adesso mi godo di successo con il bitcoin. Grazie a tutti.